Por lì si rinnova secondo il piano predisposto dal Duce. Rione e schiavonia, che con quelli di Carmine e di San Martino è compreso nel programma di risanamento edilizio della città, il ministro ai lavori pubblici, sua eccellenza Cobolli Ginghi, dà il primo colpo di piccone alla presenza di un'enorme folla acclamante al Duce. Un altro colpo di piccone alla presenza di un'enorme folla acclamante. Vediamo ora la bella modernissima casa stadio Arnaldo Mussolini dell'Opera Nazionale Balilla, situata nella zona dove, come si vede dal bozzetto, sorgerà l'Accademia di Educazione Fisica Femminile, pasto fabbricato di cui si è già iniziata la costruzione. La sagoma del costruendo palazzo degli uffici statali già si delinea netta tra le impalcature. Eppure avanzata la costruzione del palazzo della previdenza sociale, contemporaneamente sicura la conservazione e messa in valore delle antiche opere edilizie che appelliscono la città. Così uno dei palazzi Paolucci di Calvoli è stato acquistato di recente dallo Stato per adibirlo a palazzo del governo. La partenza del ministro ai lavori pubblici dall'aeroporto di Forlì. La partenza del ministro ai lavori pubblici dall'aeroporto di Forlì.